Il fatto che ci siano dei ragazzi napoletani sotto i 30 anni che ricevono un finanziamento privato di un milione di euro, insomma, incoraggia loro e tutti gli altri. In meno di un anno dall'avvio di Vulcanicamente, progetto promosso dal Comune per far crescere talenti e idee di impresa, 150 innovatori hanno scelto di mettersi in gioco e di aderire alle attività programmate per diventare start-up. Di 70 progetti presentati, 40 sono quelli selezionati ed 8 finanziati da privati. La community riguarda una quarantina di aziende che sono in pratica nate grazie a questo spirito e molte di queste, stiamo parlando di 7-8, hanno avuto già un finanziamento, comunque un sostegno. Sono numeri che appaiono piccoli ma sono percentuali elevatissime rispetto invece a quello che accade di solito. Nel mondo delle start-up è del tipo una su cento ce la fa. Noi abbiamo dimostrato che ce la può fare anche una su tre. Scopo dell'iniziativa, costo zero per il Comune, che ha creato 40 posti di lavoro in 10 nuove imprese, è di contribuire al rilancio del sistema economico favorendo l'integrazione di attività produttive, servizi e infrastrutture presenti sul territorio. Napoli è entrata nel circuito almeno nazionale delle start-up, sappiamo che si pensa sempre che a Napoli le cose siano più difficili, in realtà proprio in questo campo e proprio nel settore del social network che è molto forte tra le iniziative presentate dai ragazzi napoletani, ogni posto è il centro del mondo e Napoli una volta di più è il vero centro del mondo. Il bilancio di Vulcanicamente è stato tracciato nella sede del PAN con i protagonisti dei progetti ed il giornalista esperto di internet Riccardo Luna, che ha presentato il suo libro Cambiamo Tutto. Raccontiamo che internet ha creato 700.000 posti di lavoro negli ultimi 15 anni in Italia e che quindi usare la rete, usarla bene vuol dire creare occupazione, creare valore, creare nuove aziende, anche start-up, non solo start-up. Quando raccontiamo delle aziende chiuse raccontiamo anche che 14.000 negozi hanno aperto su Blooming, negozi di artigiani che si sono messi in rete, che magari non hanno più il negozio sulla strada ma attraverso la rete vendono.